Salve ragazzi cari amici di web, sono Andrea Bruno e quest'oggi sono qui per parlare di un tema di grandissima attualità. Vi parlerò del caso Rubi e lo farò in maniera tale, molto differente da come questo caso viene affrontato dalla stampa, dalla tv e i giornali, i cosiddetti media tradizionali, che sono dei meri strumenti di propaganda, quindi asserviti al potere. Sono dei meri ordini di propaganda atti a fare propaganda politica. Quindi non aspettatevi mai nulla di positivo da televisioni e giornali. Sono il regno della falsità. Questo mio video sarà una voce fuori dal coro, ma sarà molto veritiero e servirà a farvi capire cosa sia successo esattamente con Berlusconi, la sentenza d'appello e il caso Rubi. Allora, Berlusconi è stato, in secondo grado, è stato assolto perché vi è la cosiddetta manifestazione del nostro sistema dittatoriale. Anche in questo caso sono state cambiate le leggi in corso d'opera, si fanno come al solito per Berlusconi, per i potenti, le cosiddette leggi ad personam e nessuno vi dice questo circa il caso Rubi e quello che è successo. È successo che dalla sentenza di primo grado ad arrivare a quella di secondo grado sono state cambiate alcune carrile, alcune normative e questa piccola sottigliezza ha fatto sì che Berlusconi non abbia compiuto il reato. Ecco, questo cambiamento qual è stato? È stato introdotto il principio che se il reo non fosse a conoscenza dell'età della minorenne, non fosse a conoscenza Berlusconi che Rubi fosse stata minorenne, in questo caso il reato non si è compiuto. E' stata introdotta la cosiddetta clausola salva ignoranti, che è una clausa che non ha alcun riscontro nelle leggi, perché si sanno che le leggi vanno rispettate anche se non si conoscono, non c'è a livello legislativo, non può esserci la scusante nel dire ma io non lo sapevo, perché se introduciamo questa scusante, allora tutti i criminali possono essere assolti perché possono utilizzare questa scusante nel dire sì, è vero, io l'ho fatto, ho commesso, però io non lo sapevo, per cui me ne lavo le mani. Ecco, questo è un qualche cosa che viola estremamente quelli che sono i principi di giustizia, le realtà di una società civile e per quanto riguarda il voler salvare Berlusconi è stato proprio introdotto questo piccolo emendamento, ovvero un emendamento che va a salvare il pedofilo nel qual caso si trovi ad armamentare con delle minorenne. Perché? Perché vi è la scusante nel dire ma io non conoscevo l'età. Allora, introducendo questa scusante qui, si sta creando un problema molto grave perché da domani tutti i pedofili quando avranno a che fare con le loro vittime la prima cosa gli diranno guarda, facciamo quello che dobbiamo fare, però tu non mi dira la tua età io non la voglio neanche sapere, proprio a me non me ne fa... anzi, se tu mi dici la tua età non se ne fa niente e quindi tutta questa gente qua sarà in qualche senso protetta dalla legge nel compiere i loro reati, i loro non più reati perché non saranno più nemmeno processabili perché è andata a cambiare una legge in questo senso. I media stanno compiendo una grandissima truffa mediatica anche nei titoli di giornale. prima di tutto chiarire alcune sottigliezze la differenza che c'è tra il non aver commesso il fatto o essere imputati per un qualche cosa che non è un reato i titoli di giornale intitolano tutti assolto per non aver commesso il fatto in realtà è una menzogna perché si va a vedere, a scartabellare bene le carte o anche in certi articoli mettono il titolo falso poi dopo leggendo si riesce a intravedere qualche cosa non è questo che è successo Berlusconi è stato assolto per non aver commesso reato perché quello che prima era reato cambiando un piccolo cavillo non lo è più, non per non aver commesso il fatto lui l'ha commesso, i giornali intitolano Berlusconi assolto per non aver commesso il fatto perché non vogliono portare la gente sul binario giusto a riuscire a capire quello che è successo perché se ti danno gli indizi giusti molti potrebbero riuscire a intuire quello che è successo a andarsi a documentare e capire che in realtà viviamo in una dittatura dove la legge è uguale per tutti però nella dittatura abbiamo persone che sono in grado di cambiare la legge affinché essa sia asservita ai potenti i quali possono fare i propri comodi possono fare quello che vogliono come non hanno scrupoli a intrallazzare con delle minorenni non hanno anche scrupoli a fregare al prossimo ad ingrassarsi a scapito della collettività questo chi non ha scrupoli in una direzione, in un certo tipo di orientamento in tutta la sfera delle cose che lo ci incontrano non avrà mai alcuno scrupolo e noi viviamo in un paese dove c'è gente che essenzialmente non ha scrupoli ci governa gente con tanto così di pelo sullo stomaco e non gliene fare niente di quelli che si suicidiano della gente che si ammazza, della gente che soffre quello che soffa un mazzo per andare a lavorare e non ce la fa arrivare alla fine quelli non gliene fare proprio niente quelli lì pensano a mangiare e gente che pensa di ingrassare solo se stessa per quanto riguarda il caso Rubi io vi pongo una domanda se Berlusconi non era a conoscenza che Rubi fosse stata minorenne perché mai quando era in caserma l'ha mandata a prendere in affidamento? cioè viene a chiedersi ma una persona che non è minorenne non può essere mandata a prendere per essere messa in affidamento per cui già il fatto che la Minetti andrò a prendere in caserma Rubi per prendere in affidamento già quella era già quello un qualche cosa che dimostrava che Berlusconi in un certo senso lui lo sapeva poi comunque quando una persona adulta si mette a fare queste cose anche se tu dici ma avrà 19 anni avrà 20 anni e tu vuoi fare il porco a tutti i costi per scrupolo ti sinceri, chiedi, guardi un documento cioè non è possibile che uno vuole fare il porco a tutti i costi e poi tira fuori da scuola e te non sapevo, non volevo allora se passa per buono questo principio qua che è passato per buono? è passato per buono grazie a un emendamento per salvare Berlusconi tutti i criminali non sanno, non sapevano, non conoscono l'ignoranza viene pagata e diventa una giustificazione che va a salvare tutti purtroppo la dittatura porta anche a queste cose qua è una tragedia, in Italia viviamo veramente in qualche cosa, in una tragedia immane i giudici secondo me in questo caso qua erano asserviti al potere perché comunque sia se cambi una legge non ci può essere retroattività perché se tu cambi una legge ok, qualcuno viene depenalizzato però bisogna considerare la legge sempre nel momento in cui viene commesso il reato perché io vi faccio un esempio, io faccio un qualche cosa quella cosa che tu la puoi fare, che ne so, vendo in un certo modo perché la legge mi dice tu, lo puoi fare, non c'è nulla che te lo vieta è un tuo diritto dopo due anni dico, no no, tu l'ananas non lo potevi vendere perché è un prodotto imbargato, esce una legge nuova un qualche cosa che ti impedisce qualche cosa e cosa fai? vai con la retroattività a punire tutti quelli che hanno fatto qualche cosa quando non c'era ancora la legge e questo non lo puoi mica fare per cui il fatto che in Berlusconi si applichi un principio di retroattività è un qualche cosa che mi fa sospettare che i giudici erano asserviti è stata una sentenza di comodo, concordata secondo me ci sono dentro i poteri forti molto più alti di Berlusconi noi sappiamo che in Italia a comandare c'è la massoneria i servizi segreti, l'ingerenza estera l'Italia come paese che ha perso la seconda guerra mondiale ha dato una resa incondizionata agli americani di cui tuttora i termini non sono nemmeno ben precisi per cui possiamo aspettarsi di tutto io esorto i cittadini a combattere contro queste nefandezze dobbiamo estermomettere gli impostori della politica cacciarli l'articolo 1 della Costituzione italiana dice che l'Italia è uno stato in cui il popolo è sovrano per cui siamo legittimati in qualità di sovrani a compiere qualsiasi azione necessaria finché queste nefandezze abbino termine dobbiamo compiere qualsiasi atto affinché se finalizzato a cancellare questo tipo di dittatura è giustificato dalla Costituzione non abbiamo remore dobbiamo combattere in maniera energica affinché queste nefandezze abbino fine e cessino altrimenti ci sarà sempre gente che si ammazza gente che non ce la fa più gente che anche facendocela riuscendo ad andare avanti viene demoralizzata nel vedere che la disonestà premia e questa è una cosa brutta la disonestà in una società civile deve essere sempre considerata come qualcosa di deleterio noi viviamo in un paese dove il furbetto, il briconcello ne gode nel vedere il più farabutto di lui che c'era fatta il signorotto il prepotente che è arrivato in cima alla piramide perché il briconcello piccolino che ancora è lì che si marca bene al furfantello ambisce anche lui a diventare andare sui vertici della piramide e riconosce nel furfante di professione nel re dei briconcelli si riconosce come il papà dice tu sei il mio papà io a te ti devo sempre sossegnarti devo sempre il mio voto ecco questo è un po' quello che vi volevo dire scusatemi se ci ho girato un po' attorno vi saluto e ci sentiamo alla prossima combattete sempre per quello in cui credete ricordate il popolo è sovrano ciao a tutti